Ciao fammi, ciao! Ehi, collega! Chi è? Andiamoci a bere una cosa al bar? No, che cosa al bar? Devo andare a casa veloce! E vai dopo! Quali dopo? Vado a casa e strappo le mutande di mia moglie! Ehi, così eccitato stai! No, mi vanno strette! Vai sulla molla che mi frecchio! Perchè te... Tipo per i zoni!